Si registra un netto aumento di infarti e morti cardiache improvvisi negli ultimi due anni. Dati che preoccupano che sono oggetto di studio da parte degli specialisti. Ad incidere nelle fasi iniziali della pandemia è stato il netto calo degli accessi nei pronti soccorso e nelle strutture d'emergenza per problemi cardiovascolari. Le persone quindi non solo non si sono ricoverate, ma spesso hanno chiesto aiuto con molto ritardo. E per l'infarto, che è una malattia definita tempo dipendente, il riconoscimento precoce dei sintomi e la tempestività nell'intervento sono decisivi per il funzionamento della terapia. Un dato a cui si sono aggiunte le tante sequele a carico del sistema cardiorespiratorio nei pazienti che hanno sviluppato il Covid. Sì, in epoca Covid le società scientifiche hanno riscontrato un aumento notevole dei casi di infarto e soprattutto di infarto con conseguenze più gravi. Questo è soprattutto stato legato all'inizio alla difficoltà del paziente a recarsi in pronto soccorso, con la giustizia dei pronti soccorsi ma soprattutto anche con la paura di contrarre poi la malattia in ambiente ospedaliero. Quindi questo ha tenuto la paura, ha tenuto lontani i pazienti dal pronto soccorso e ha fatto sì che gli infarti che normalmente vengono trattati precocemente, quindi infarti che vengono fatti abortire perché viene riaperta la coronaria, invece abbiano potuto evolvere verso una maturazione piena e quindi diventare veri e propri infarti. Questo spiega il primo incremento. Il secondo può essere invece una causa diretta del virus perché sembrerebbe anche facilitare patologie, sì, di patologie a livello vascolare e quindi fra queste anche l'infarto. Anche se il virus è più direttamente coinvolto in meccanismi che colpiscono il muscolo, sì, respiratori, ma a livello cardiaco che colpiscono il muscolo cardiaco e quindi le miocardite. La causa maggiore di incremento sembra essere stata quella proprio della difficoltà da accedere in pronto soccorso. Il vaccino è stato molto demonizzato. Noi come classe medica crediamo nel vaccino, tra l'altro i risultati li abbiamo visti, ci sono evidentemente. Il vaccino può dare miocardite, la dà in percentuale molto bassa. Immaginate che la probabilità di incontrare una miocardite con un vaccino è intorno credo al 10 su un milione. La possibilità di incontrare una miocardite con virus è intorno invece a 1000 su un milione. Quindi siamo, diciamo, diversi ordini di grandezza in più col virus. Quindi sicuramente conviene vaccinarsi e non aspettare di incontrare la malattia spontaneamente. Grazie a tutti.